Cosa succede quando si guasta un satellite? Allora, un satellite non è come l'automobile che appunto si ferma, il satellite continua a orbitare, però non abbiamo più connessione con questo satellite. Immaginiamo di perdere le comunicazioni, non è così raro, è recentemente successo. Nel 2012 abbiamo perso il collegamento con Envisat, che era un satellite per osservazione meteorologica, è un pullman come dimensioni per capirci, e questo oggetto in questo momento sta girando sopra la nostra testa assolutamente incontrollato, in orbita bassa. Cosa fanno i satellite quando sono fuori controllo? Beh, iniziano a ruotare, iniziano a perdere l'assetto, possono deviare dalla stessa orbita perché la Terra ha dei disturbi, esiste il disturbo proveniente dal Sole, quindi il satellite stesso inizia quindi a non occupare più quello spazio che è riservato a lui, ma va ad invadere lo spazio, va ad invadere la corsia di qualcun altro. E a questo punto questo qualcun altro, se è ancora sveglio e in grado di spostarsi, quindi se ha del propellente a bordo, deve fare questa manovra di collision avoidance. Ora bisogna considerare che la probabilità di essere centrati da un satellite è molto, è estremamente molto bassa, per cui mi va di dire che non ci prenderà in testa perché la stragrande maggioranza dei satelliti cade in zone anche incontrollate, che cade in maniera incontrollata, cade comunque in zone non abitate del pianeta. Tuttavia è un problema. Cosa si può fare? Due strategie, una a breve termine e una a lungo termine. La strategia a breve termine è chiamata mitigation, mitigazione del problema, ossia satelliti a fine vita, bene, io prima di spegnerlo lo manovro in maniera tale che o lo metto in un'orbita di parcheggio esterna alle orbite affollate, ma obiettivamente a me non piace, ma in genere alla comunità scientifica questa opzione non piace, ma è l'unica opzione se il satellite è nella zona alta dell'orbita bassa, perché altrimenti dovrebbe attraversare tutta l'orbita bassa e con rischio di collisione, e altrimenti gli altri satelliti, quelli più vicini alla Terra, si preserisce a metterli in un'orbita di cattura, che dopo 25, entro 25 anni, vengano catturati dall'atmosfera e che cascano da qualche parte, ma si è già studiato che questi satelliti devono essere sufficientemente piccoli da essere distrutti completamente a rientro. Se il satellite è troppo grande, invece, bisogna implementare quello che viene chiamato rientro controllato del satellite, ossia l'ultima manovra del satellite è uno sparo del motore verso terra per mirare esattamente quella che viene chiamato ground footprint, ossia la zona di impatto dei detriti. È una cosa che si può predire con una buona accuratezza, se siamo noi a fare la manovra. Se il satellite rientra da solo, no, non si può predire.